come è stata bella dopo tanto tempo senti i compagni dell'Annunziatella, mi hanno chiamato sai perché? sono passato trent'anni e ci hanno avuto. La cosa bella è questa compagnia che passa il tempo e mi mette sempre in balleria. Si è gannata tanto, con chi le troppe, con i capelli meno, il mio spirito è sempre lo stesso e chi le vuole una fiera. Fiera appartiene a una cosa grande, Annunziatella.